Il premio e i premi sono uno strumento col quale abbiamo voluto far emergere, riconoscere e far conoscere quella intelligenza giusta di cui parlavo prima e che è un patrimonio largamente diffuso e presente nel sistema Italia, non soltanto in termini di cultura di impresa ma anche in termini di cultura del lavoro, proprio in quelle donne e gli uomini che fanno funzionare l'impresa. I premi sono destinati ovviamente ad accordi e progetti su sfere, in sfere e campi di attività che sono i muri maestri di quella impresa, modello che prefiguriamo. Abbiamo premiato accordi e attività e azioni nei campi più svariati, innanzitutto sulla salute e sicurezza sul lavoro, sulla tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, sulla mobilità del lavoro e la tutela delle diversità sociali, sulla tutela e valorizzazione della donna, sulla responsabilità sociale d'impresa, sulla formazione continua dei lavoratori e delle professionalità anche manageriali. In tre anni a questa parte, nelle ultime due edizioni, abbiamo voluto premiare anche alcuni aspetti legati ai motivi centrali che hanno caratterizzato l'attività culturale del Festival Internazionale di Ravello. Abbiamo premiato le diversità, abbiamo premiato soprattutto lo scorso anno il coraggio di comportamenti etici individuali, ma abbiamo premiato anche un altro tipo di coraggio, anch'esso importante e va detto in modo esplicito oggi di fronte a tutto ciò che sta avvenendo. Abbiamo premiato infatti il coraggio di quel giornalismo di prima linea, determinato e sereno, rappresentato da una giornalista come Rosaria Capacchione. Abbiamo premiato il coraggio di chi, come i lavoratori della Calcestruzzi e Ricina di Trapani e del prefetto Fulvio Sodano, hanno voluto e sono stati capaci di sfidare la mafia per salvaguardare il diritto al lavoro e al futuro per la propria famiglia e in particolare il prefetto Sodano l'ha fatto per affermare il ruolo, la funzione e la dignità dello Stato. Da due anni a questa parte assegniamo anche un premio speciale importante per i suoi risvolti culturali e sociali, il premio speciale Guardare al futuro, dedicato alle scuole superiori.